grazie buongiorno a tutti allora direttamente dal corner benessere il mio talk parla di work life balance e dico sempre che un po di anni fa ho incontrato sulla mia strada un libro che si chiama il lavoro non è un posto e penso che questa sia una frase molto bella e che noi freelance insomma ci abbiamo nel retro cranio perché che il lavoro non sia un posto fisico lo sappiamo da mo adesso con la storia dello smart working con la storia del dei nomadi digitali insomma lo sanno un po anche gli altri allora il lavoro diventa per la maggior parte di noi uno spazio in cui esprimersi in cui trovare soddisfazione in cui fare la differenza e guarda caso insomma come più di qualcuno oggi ci ha anche ricordato anche per viverci allora faccio un piccolo sondaggio per alzata di mano chi di voi pensa di avere qualche problema o qualche cosa di da aggiustare sul suo work life balance ok bene qualcuno pure a due mani bene allora mi conferma la media diciamo così dei miei sondaggi nel senso che la questione è abbastanza diffusa succede nel mondo dei liberi professionisti succede anche quando mi capita di lavorare con con le aziende allora oltre a essere diffusa la questione sempre anche abbastanza calda e spinosa e mi sono provata a chiedere anche il perché e la spiegazione l'ho trovata nella traduzione che l'italiano fa dell'espressione work life balance in italiano si parla di conciliazione vita lavoro e quando parliamo di conciliazione vuol dire che da qualche parte c'è un conflitto e la sfiga vuole che nel conflitto di conciliazione vita lavoro noi siamo seduti da tutte e due le parti del conflitto che vuol dire due cose uno che siamo sempre un po' incazzati due che perdiamo sempre da qualche parte e questo la spiegazione che io mi sono data del perché la questione è sempre abbastanza calda allora siccome però mi hanno insegnato che se un problema non ha una soluzione non è un problema e se io sono in conflitto con me stesso non c'è una soluzione ho provato ad andare un po più in là per cercare di capire quali sono delle convinzioni o dei falsi miti che non ci aiutano a uscire da questo impasse il primo file sommito che ho individuato ho provato a semplificarlo con questa hashtag non solo figli allora il work life balance non è una questione che riguarda solo chi ha dei figli primo perché anche gli altri hanno una vita e qualcuno di voi che avrà alzato la mano magari non avrà figli e il secondo tema qui è che un sacco di studi che raccontano come sta evolvendo i trend del lavoro del futuro ma credo che ognuno di noi su questo abbia esperienza più di altri anche ci dice che attendere fra 15 20 anni lavoreremo tutti dipendenti o freelance un po' di meno in termini di tempo ma ci verrà richiesta sempre più disponibilità e questa cosa già succede a me personalmente succede perché incominciamo a vedere che qualche cliente ci chiede di lavorare di sabato qualche webinar in orario serale quindi ci sono dei tempi non ordinari di lavoro e quindi questo porta il lavoro a essere un po più pervasivo invasivo quindi non c'entra niente con i figli cioè è una questione che va oltre il fatto di avere i figli seconda secondo mito da sfatare non è una questione per donne allora qui pensando a questo mi è venuto in aiuto la storia anche se la prima volta che hanno usato l'espressione work life balance siamo negli anni 70 ed era l'associazione delle lavoratrici britanniche che picchettava fuori dalle fabbriche perché voleva degli orari di lavoro diversi per star dietro alla famiglia poi a metà degli anni 80 ne hanno parlato negli stati uniti boom economico pensavano che il benessere studi sociologici fosse alle stelle e invece si sono accorti che c'era un diffondersi inaspettato di malattie psicosomatiche hanno indagato un po di più il fenomeno ed è venuto fuori che nell'età dell'oro si diventava ricchi facilmente la gente lavorava un casino e poi scoppiava però erano ricchi allora questo mi dice che l'espressione work life balance ha a che fare con due cose che non di solo lavoro vive l'uomo e soprattutto che siamo cioè è una questione collegata al nostro benessere ecco perché ero finita nel corner del benessere terzo fa il suo mito non riguarda il tempo quindi il mio hashtag qui è non solo tempo e questo già sembra un po più strano inconvenienti della diretta ve la provo a raccontare così da quasi una decina da anni io tengo un workshop sul work life balance e uno degli esercizi che propongo all'inizio è quello di disegnare la propria bilancia e poi di mettere dentro i piatti della bilancia le cose che stanno da una parte le cose che stanno da un'altra guardando i disegni dei partecipanti mi sono accorta che ci sono delle cose che delle volte vanno a finire nel piatto work e delle volte vanno a finire nel piatto life esempio il tragitto casa lavoro la spesa la cura della casa qualcuno li mette nel work qualcuno li mette nel life allora ho provato a fare qualche domanda in più e per esempio sul tragitto casa lavoro le persone che mettevano quella cosa nel piatto work mi raccontavano delle ore passate in macchine imbottigliati nel traffico chi metteva quella roba nel life mi raccontava di una bella passeggiata rilassante la mattina uscendo di casa per andare in ufficio oppure del stare seduti una mezz'ora in treno o in autobus leggendo il libro preferito allora questo per dire che non ha a che fare con il tempo che noi trascorriamo nel fare una un'attività o un'altra ma forse più a che fare con il fatto che mentre svolgiamo una certa attività ne percepiamo la fatica il piacere l'utilità o il peso è quella roba lì che ci dice dove lo mettiamo l'ultimo hashtag è non solo lavoro e qui cito il nostro luca che ieri ha raccontato la sua storia di dieci anni di riflessione carriera internazionale per capire che non voleva lavorare sempre durante il workshop a un certo punto chiedo di disegnare la propria vita ideale la propria bilancia ideale e devo dire che in solo due casi se luca avesse partecipato uno dei miei workshop sarebbe stato il terzo caso quindi su più o meno 200 persone che hanno partecipato al workshop solo in due casi nella vita ideale non c'era il lavoro quindi significa che non è neanche colpa del lavoro e lui me lo può confermare vero ok allora sfatati questi quattro miti siamo quasi pronti per accogliere la formula magica dell'equilibrio per cui per essere sicura che siate pronti vi chiedo di alzarvi tutti in piedi velocemente ok bene vi chiedo di alzare la gamba sinistra ok è esentato chi ha qualche problema le articolazioni lo dico prima bene alzate il braccio sinistro alzate il braccio destro e provate ad allungarvi verso la vostra sinistra ok bene sì destra sinistra ok bene grazie la domanda è siete stati comodi bene allora nella maggior parte dei casi la formula che ricerchiamo per il nostro equilibrio assomiglia a questa roba qua un po questo esercizio che avevo fatto fare che per me insomma già questo mi dice che non è una formula magica perché c'è due problemi uno anche se trovo il punto di equilibrio riesco a tenere la posizione pochino secondo è suscettibile molto sensibilmente di tutto ciò che accade attorno basta che il nostro vicino abbia allungato male il piede o che qualcuno abbia voglia di farmi uno scherzo e io cado quindi il concetto di equilibrio deve essere qualcosa di diverso da questo per funzionare bene allora quello che credo è che l'unico modo per trovare delle formule magiche che però valgano anche nella vita vera sia provare cambiare prospettiva sulle cose perché solo quando noi guardiamo al mondo da una prospettiva che non abbiamo mai adottato cominciamo a pensare in modo diverso e se cominciamo a pensare a modo diverso cominciamo ad agire in modo diverso questo vuol dire trasformare le cose quindi per me è una formula magica allora per farvi capire che cosa intendo io nella mia formula magica sul work life balance vi faccio fare un velocissimo esercizio che è questo provate a disegnare su un foglio di carta questo cruscotto così più o meno su cui disegnate quattro linee sulla sinistra c'è lo zero sulla destra c'è il full ok serbatoio se vi piace di più per comodità lo potete anche dividere in quattro se no lasciatelo anche liscio allora la prima linea lavoro la seconda linea ci disegno un cuoricino qui dentro per me c'è amore ma in generale non importa se no avete un se siete single cioè la vita affettiva gli affetti terzo la salute quarto il divertimento quando siete pronti avete disegnato il vostro cruscotto vi chiedo in pochi secondi di posizionarsi sulla linea rispondendo alla domanda come va quindi come va sul lavoro sei verso zero o verso full come va con la vita affettiva zero o full provate come va cioè la domanda come va se risponderesti benissimo per me sei full sei full scusami se risponderesti da schifo sei sullo zero ok insomma vedi tu dove è l'insomma insomma ok bene allora questo è un esercizio che aiuta ad adottare una prospettiva diversa che io chiamo una prospettiva un po' olistica sul problema cioè diamo uno sguardo di insieme perché credo che aiuti ad avvicinarsi alla formula magica perché intanto mi consente in uno sguardo solo di vedere che cosa c'è e che cosa manca in un unico sguardo che vuol dire che io posso imparare a sostenere quello che manca cioè il fatto che da qualche parte non sono perfetto perché c'è anche qualcuno di questi pezzi raramente sono tutti qualcuno compila tutto sullo zero per cui invece ci sono dei pezzi per cui mi sento di dire grazie cioè la prospettiva della gratitudine laddove ci sono delle cose che vanno bene è una prospettiva che mi aiuta a cambiare le cose la seconda cosa che mi porto a casa invece ha a che fare con la consapevolezza parola che è stata detta pronunciata parecchie volte in questi giorni cioè io se ripeto questo esercizio più volte quotidianamente o periodicamente mi potrei accorgere che ci sono delle correlazioni interessanti quando va bene l'amore fatalmente va sempre bene anche il lavoro oppure l'esatto contrario giusto per fare un esempio allora questo mi dice mi aiuta a essere maggiormente consapevole di come funziono io non c'è una regola per tutti però ci sono dei collegamenti cioè il filo che tiri da una parte tira dietro anche qualcos'altro o al contrario nella stessa direzione e questo è importantissimo per trovare l'equilibrio per capire come è fatto il nostro equilibrio e ovviamente naturalmente questo si collega anche al fatto se io ripeto questo esercizio un po' di volte che mi accorgerò che il mix cambia per cui ci sono i contenitori che si possono riempire che si possono svuotare e che chi può riempire o svuotare sono io stesso con le mie scelte quotidiane e questa cosa qui vuol dire che io posso incominciare a non vivere a caso perché questo succede anche quando non scegliamo di farlo succedere ma incominciare a vivere in maniera un po' più intenzionale quindi a scegliere come voglio che cambino le cose tanto tutto pieno non sarà mai però se per diversi giorni vedo che è pieno qualcosa che sta calando qualcos'altro posso stoppare tutto e dire ok è l'ora di dedicarmi ad altro e di riempire l'altro contenitore in qualche modo come lo facciamo in pratica potremo parlarne molto a lungo io vi do quattro consigli il primo consiglio è smettere di chiedersi come faccio a fare tutto quando guardate la vostra lista e vi sentite sopraffatti ma incominciare a chiedervi come faccio a fare le cose essenziali oggi e a fermarvi lì secondo consiglio iniziate a gestire le vostre energie e non il vostro tempo energie, non tempo chiedetevi come avete investito a fine giornata le vostre energie o dove le volete mettere non il tempo terzo pensate a mettere da parte un giorno alla settimana ne parlavamo prima nel gruppo benessere magari mezzo giorno alla settimana per voi che non vuol dire che andate un giorno alla settimana nella spa vuol dire che blindate un pezzo di tempo importante nella settimana in cui fate solo cose che vi ricaricano le pile cioè in quella mezza giornata che è per voi è il recharge day cioè quello serve a ricaricare le pile quindi niente di quello che vi scarica va lì dentro non vi piace cucinare in quella mezza giornata non cucinate ok vi piace cucinare cucinate un casino in quella mezza giornata cioè fate le cose che vi ricaricano le pile mezza giornata alla settimana non è un optional ricaricare le pile per un freelance meno che per gli altri è mandatorio anche se sembra uno shock ecco quello che vi sto dicendo e l'ultima cosa scontata ma non sempre così scontata è dite dei no più ne dite e più sarete equilibrati perché le persone efficaci e felici sono quelle che sanno dire no grazie questo non fa per me grazie a voi grazie a tutti